Benvenuti, siamo qui con Erika De Matteis, neo-eletta e finalista di Miss Universo per l'Italia. Buonasera a tutti. Ti chiedo, io sembro molto nana rispetto a te, ti chiedo se sei vera, perché oltre che bella sei anche impegnata nel sociale, lavori con i bambini, i subbi. Quindi che cosa? Qual è il tuo segreto? Perché poi hai anche moltissimi followers su Instagram, quindi sei già un influencer a quello che ho visto. Allora, diciamo che non mi dò pace, nel senso che la mia giornata è di 48 ore, io inizio la mattina alle 8, faccio 10.000 cose e non si sa mai quando finisce. No, lo faccio perché mi piace, per passione, perché mi sento soddisfatta di tutto quello che faccio e della mia vita in generale. Senti, cosa prevedi per questa trasferta a Bangkok, per la finalissima di Miss Universo in cui avrai delle accanitissime rivali da tutto il mondo? Sì, quello sì, però allo stesso tempo io sono comunque molto sicura di quello che sono, della mia preparazione a livello personale, caratteriale e culturale, quindi vado serena. Ok, perfetto, quindi da me che sembro una nana, e da Erika che però è anche i tacchi 13, non lo so. Un grande saluto, continuate a iscrivervi al canale Caffè delle Dieci su YouTube, a presto, in bocca al lupo, ciao! Crepi! Ciao, ciao!